Ripristino delle foreste di pino marittimo danneggiate dai parassiti, interventi sulle aree boscate, colpite da incendi e calamità naturali, mitigazione degli effetti del cambiamento climatico. Sono alcune delle azioni che saranno possibili grazie ai circa 12 milioni di euro che la Regione Toscana mette a disposizione per le misure forestali del Piano di Sviluppo Regionale 2014-2020. Si tratta di risorse, spiega l'assessore all'agricoltura Marco Remaschi, che vengono da economie sulle misure del settore forestale per rinunce o per minori spese effettuate e che consentiranno di ampliare il numero degli interventi a favore delle imprese e degli enti pubblici. È un'operazione importante che non solo conferma l'attenzione della Giunta regionale al grande patrimonio forestale toscano, ma che consente anche di rispettare i tempi di conclusione del periodo di spesa dei fondi comunitari del PSR 2014-2020, per i quali la tempestività e l'efficienza sono elementi essenziali per assicurare comunque all'impresa e al settore in generale un completo utilizzo delle risorse disponibili. Grazie a queste risorse sarà possibile soddisfare tutte le richieste per poco più di 3 milioni di euro per il ripristino delle pinete di pino marittimo o dei boschi con presenza di pino marittimo, danneggiate dal Matsukokus feitaudi al fine di ricostruirne la funzionalità. Con altri 2,5 milioni si potranno sostenere investimenti finalizzati a raggiungere impegni obiettivi ambientali, anche rafforzando la capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici. Circa 4,5 milioni di euro saranno invece destinati al sostegno e alla prevenzione dei danni arrecati alle foresti da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, mentre 2,2 milioni andranno ad aumentare la disponibilità del prossimo bando rivolto in particolare alle imprese per il sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione e la commercializzazione di prodotti delle foreste.